Si potrebbero allungare i tempi per la riconsegna completa di Piazza Duomo alla comunità aquilana. Lo stato di cosa è venuto fuori dopo un'interrogazione presentata dal consigliere comunale di L'Aquila Nuova, Paolo Romano. Ad oggi, infatti, la ditta esecutrice dei lavori, nonostante la richiesta da parte dell'amministrazione civica, non avrebbe consegnato il cronoprogramma aggiornato con opere in corso e scadenze. Oltretutto, spiega in una nota il consigliere Paolo Romano, la stessa ditta esecutrice dei lavori che ha beneficiato già dei due proroghe, sarebbe in penale dallo scorso 19 di giugno. Insomma, 40 giorni che, in dato economico, tenendo presente una penale quotidiana da quasi 4.500 euro, si potrebbero tramutare in circa 180.000 euro che il comune dell'Aquila potrebbe richiedere alla ditta. Non solo in un altro mese e mezzo, infatti, si arriverebbe alla soglia economica massima oltre la quale la stazione appaltante dei lavori in Piazza Duomo, ossia il comune dell'Aquila, potrebbe risolvere il contratto in danno della ditta. A quel punto, chiede il consigliere comunale Paolo Romano, cosa succederà? L'ipotesi è che potrebbero scattare le riserve con il rischio di contenziosi ritardi.